Musica Si è impegnati formalmente, il dottor Leonetti si è impegnato formalmente attraverso il contatto con la postura centrale che consentisse a questo corteo di arrivare fino a Colosseo. Noi stiamo chiedendo soltanto di poter uscire da una piazza che è pericolosamente messa in questa condizione. Non è assolutamente pensabile che dentro questa città non si possa manifestare liberamente. Così create tensione, vi state prendendo la responsabilità di chiare il casino perché è chiaro che un corteo di queste dimensioni se non può muoversi è frustrante e voi lo sapete, state cercando lo scontro, voi state cercando lo scontro. Avete detto che l'avremmo gestita in piazza questa cosa, l'avete detta voi, il dottor Parente e lei, avete detto davanti ai nostri occhi che avremmo gestito un corteo e ce l'hai ribadito qui, su questa piazza pubblica, i rapporti sono rapporti tra persone serie, tra persone che non fanno i giochi delle tre carte come fate voi. Capito che non ci veniamo? Non ci caschiamo dentro questa trappola che avete architettato? Vergognatevi! Corteo! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no